Amici di Marcosbox, benvenuti o bentornati in questa nuova non recensione di un prodotto hardware e questa volta sotto la nostra lente di ingrandimento ci sono fini di questo paio di auricolari spegniamo un attimo le luci perché altrimenti i cagnolini cadranno ogni due secondi e poi questo prodotto non merita la luce bella carina di questi due cagnolini simpatici sono degli auricolari che ho acquistato circa tre mesi fa e sono, vi faccio vedere il modello, i Redmi Bans 4 Lite della Xiaomi quindi il brand economico della Xiaomi che un tempo faceva anche prodotti di qualità a un costo contenuto poi evidentemente con il tempo si sono un po' persi per strada spieghiamo un po' perché ho acquistato questi auricolari li ho acquistati lo scorso mese di agosto sfruttando un'offerta sul canale Amazon dedicato alle offerte di Marcosbox a proposito se non siete ancora iscritti iscrivetevi numerosi in modo tale da supportare il canale fa qualche giorno ci sono anche le offerte del Prime Day dicevo ho dovuto comprare questi auricolari in emergenza a seguito della prematura di partita dei miei vecchi auricolari della Xiaomi quindi di partita nel senso che uno dei due mi è caduto sotto uno scaffale del supermercato mentre compravo dei pelati e non sono più riuscito a recuperarlo praticamente mi è caduto dall'orecchio ha rimbalzato sulla scarpa e è andato a finire sotto lo scaffale del supermercato e non sono più riuscito a recuperarlo ho provato a cercare di recuperarlo chinandomi cercando di fare luce col telefonino per riuscire a trovarlo ma non ci sono riuscito non c'era nemmeno nessuno a quell'ora e quindi di conseguenza non sono riuscito nemmeno a chiamare i soccorsi diciamo così di un commesso però quei dati sicurosi saranno divertiti quelli della sicurezza guardare un ciccione che è stravaccato per terra cerca di qualche cosa lì sotto gli scaffali vabbè aperta e chiusa parentesi e ho deciso di prendere un nuovo paio di auricolari perché i vecchi auricolari dello Xiaomi che avevo prima erano di quelli a fagiolo con il gommino e diciamo che erano discreti però avevano il difetto e si sporcavano in una maniera assurda i gommini nel corso del tempo si erano comunque come si dice a foggio in cotto quindi avevano perso le elasticità si era rovinata la gommina i gommini e quindi di conseguenza tendevano a scivolare dalle orecchie infatti uno di quelli mi è caduto è un nuovo più ripreso e ho deciso di prendere uno di questi modelli senza senza gommino all'epoca c'erano questi qua in offerta e poi c'erano un prodotto dell'Oppo così anni poi avrei fatto meglio a prendere quel altro prodotto ho preso questo prodotto perché alcune recensioni le indicavano che questi erano dei buoni orecchie nonostante la fascia bassa all'epoca l'Oppo è andato a tornare ai 22 euro una cosa del genere adesso ovviamente costano costano molto di meno adesso mi sembra che sia in offerta attorno a 16 euro ma adesso sto registrando questa recensione e dicevo mi sono fidato di queste recensioni che dicevano che comunque ero un prodotto discreto e poi ho scoperto la malata che non bisogna mai fidarsi delle recensioni perché ci sono un sacco di recensioni recensori da fuori che dico sempre che i prodotti sono tutti buoni perché non li provano e anche perché poi se spesso e volentieri hanno paura che poi non gli vengano mandati più i prodotti quindi non criticano i vari produttori a differenza di di Marcos Box che se c'è da criticare ve li critica anche aspramente come stanno le orecchie questi auricolari ecco innanzitutto vediamo nella sua nella logo tutta bellezza sono degli auricolari in stile diciamo gli Airpods quelli di Apple della prima generazione adesso ve lo faccio vedere da vicino ci sono qua i due piolini per la ricarica sono touch anche se il touch non è molto reattivo e sensibile diciamo che sta giusto per ed hanno questa forma diciamo così affusolata va che dovrebbe spessarsi bene con i padiglioni auricolari ma purtroppo nel mio padiglione auricolare non vanno affatto bene è difficile trovare la posizione giusta quando li vanno a mettere quindi li devi stare sempre a ruotare un po' così e comunque non sono ben saldi non sono ben saldi soprattutto quando vi trovate a camminare velocemente oppure nella stagione estiva quando siete un po' più sudatici perché non so voi ma io affoggio qua si suda anche a stare fermo nella stagione estiva e quindi che succede? succede che voi vi trovate a camminare con questi qua e ogni tanto vi scivolano mi sono caduti diverse volte diciamo quindi non sono molto indicati per per la camminata veloce per la corsa questi anzi sono sconsigliati se siete questa tipologia di utenti ma vediamo invece la la funzione principale questo degli auricolari come l'audio in ascolto beh il volume ve lo dico fin da subito il volume massimo è basso i suoni sono praticamente piatti c'è una quasi assenza di bassi musica rock scordatevela musica metal scordatevela praticamente potete ascoltare soltanto la musica di merda tipo la trap e cose del genere la situazione migliora leggermente se avete un'applicazione un player audio che vi fa equalizzare il suono grazie a quelle riuscite diciamo così ad ottenere un suono più un po' più avuattato sempre basso però diciamo così un po' più piacevole ovviamente Xiaomi ha ben pensato di non rilasciare nessuna companion app per questi auricolari quindi se utilizzate così come sono fanno schifo cioè praticamente non sono per niente equalizzati vabbè uno dice che si aspetta di un auricola di pentiere no perché ci sono altri brand che offrono comunque una companion app per equalizzare il suono quindi non dover stare a equalizzare il suono nelle varie applicazioni quindi nota di demerito insomma per questo come l'audio in chiamata e anche l'audio in chiamata è un tagone da kill molto grande per questi auricolari in chiamata tutti e sottolineo tutti lamentano del basso volume di una bassa qualità della chiamata quando rispondo alla chiamata e sono con gli auricolari compio ogni volta i seguenti passaggi uno rispondo alla chiamata due dico pronto tre sento da alta parte qualcuno che dice che non mi sente bene e che o mi chiude la chiamata o sono costretto a chiudere la chiamata io bestemmiando poi perché poi mi ritrovo a dire ma ridette a me che ho comprato sti cosi e e poi sono costretto a ritelefonare al marcapitato e spiegare che non mi sentivo per via di questi auricolari che non sono per niente buoni diciamo così oltretutto hanno anche un altro bug che si è presentato dopo circa due mesi di utilizzo un bug che anzi no un mese e mezzo perché fin da quasi subito mi sono riscontrato questo bug ed è un bug riguardante diciamo la messa in custodia degli auricolari che cosa succede? succede che magari avete sentito un po' di musica diciamo così così ci sentite i podcast ecco la musica no stavate ascoltando il vostro podcast preferito tipo i podcast di marcosbox oppure polpa e patata ciao video e che succede? mettete gli auricolari li ponete a posto li lasciate sulla scrivania buttate da qualche parte ve li infilate nelle tasche dei pantaloni convinto di aver chiuso il collegamento perché l'avete posti l'avete chiuso dice questo non partono più e invece no invece mi capita mi sta capitando spessissimo di riporre gli auricolari sulla scrivania o nei pantaloni mi arriva una chiamata mi ritrovo a rispondere al telefono e avvicino l'orecchio allo smartphone per parlare e non sento nulla e in questo caso inizio a maledire come ho sempre perché devo sempre maledire qualcuno in questi casi maledisco il mio operatore telefonico che immagino capite bene se io maledico spesso il mio operatore telefonico immagino abbiate capito qual è il mio operatore telefonico mi trovo a maledire il mio operatore telefonico dando a lui la colpa del fatto che non si sente la chiamata quando in realtà invece non è né colpa dell'operatore telefonico né colpa del mio Xiaomi perché ho anche un telefono Xiaomi perché quindi io gli sbagli li faccio e persevero negli sbagli perché ho acquistato diversi prodotti della Xiaomi nel corso degli anni nonostante trovo bug praticamente ovunque in questi prodotti e poi non si è andata la chiamata perché non si è andata la chiamata perché semplicemente perché le cuffie erano ancora collegate e il vostro interlocutore magari si trova a parlare con le vostre tasche le tasche del vostro pantalone è un problema che vi ripeto mi si sta presentando sempre più spesso poi siete costretti a ripire e chiudere ripire e chiude poi quando non ce la fate più perché vedete che questa cosa non funziona né aprire e chiudere né arrivare e mettere perché sono sempre collegati fa sempre il suo scherzetto poi siete costretti a distaccarli dal bluetooth e dire che cacchio ho preso a farsi così e buttate io ve li sconsiglio vi lo dico con tutto il cuore è stata la larga da questi prodotti è stata la larga da questo prodotto ho visto che appunto il prezzo sta anche scendendo sempre di più in occasione delle offerte del Prime Day su Amazon è un segno che diciamo così non è una serie molto riuscita di questi auricolari paradossalmente io in passato ho provato auricolari a basso costo di altri brand brand minori cinesate come le chiamo io che erano più prestanti di questi Xiaomi Redmi Buds 4 Lite e vi ripeto tenetevi alla larga e se volete sentire la musica come si deve alzate la sticella del prezzo non indirizzatevi verso questi prodotti economici questi sono i classici come li chiamo io spesso auricolari da cestone dai vari negozi di elettronica questi ve li trovate che ve li li trovate in quantità industriale all'interno dei cestone che vengono venduti semplicemente perché uno si trova lì e dice ma hanno un paio di auricolari senza figlie 20 euro lo prendo e poi fanno la fine che fa risparmiate i soldi prendete qualche prodotto di qualità se volete sentire bene la musica se volete che la gente vi senta quando chiamate quando state in conversazione non prendete questi così ripeto ve li sconsiglio fatemi sapere voi se avete provato questo tipo di auricolari se io sono particolarmente sfigato la mia solita sfiga cosmica che ho tutti i difetti questi auricolari che sono baggato non lo so però ripeto per me è no la mia esperienza è negativa mi trovo meglio con i vecchi auricolari quelli con il gommino che comunque non erano di qualità però erano migliori rispetto a questi un saluto a tutti quanti e ci rivediamo in una prossima puntata delle no recensioni di marcosbox ciao ciao anzi facciamo così perché non si è vista la mano un saluto a tutti i vecchi auricolari